ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei parlarvi di come investire 100 euro le sette migliori alternative che ci sono al momento secondo me ma prima di iniziare ragazzi come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati è l'unico modo che avete per darmi una mano è quello di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti un grazie speciale ragazzi a tutti voi che avete contribuito a farmi raggiungere questo grandissimo traguardo dei 100 iscritti sul canale youtube grazie a tutti e spero di poter condividere e fare nuovi video con ringraziamenti per alti più alti numeri di iscritti ma iniziamo immediatamente con il video di oggi se ti stai chiedendo dove e come investire 100 euro nel migliore dei modi possibili questo è il video che fa per te 100 euro da investire infatti sono davvero pochi e non ti permetteranno di guadagnare un gran che ma da qualcosa si dovrà pur iniziare no se imparerai ad investire 100 euro nel modo giusto diventerai molto più consapevole nella gestione delle tue finanze e saprai come fare anche successivamente quando avrai intenzione di investire cifre ben più elevate in questo video ti mostrerò infatti come investire 100 euro in 7 modi diversi ciascuno dei quali presenta un livello di rischio e anche un rendimento atteso differente resta fino alla fine per conoscere tutti i dettagli quindi ragazzi ora vi faccio vedere quali sono i sette metodi che ho selezionato per voi e vi darò una spiegazione dettagliata con i pro e i contro per ognuno di essi allora partiamo con il primo il conto deposito il primo modo quindi per investire e mettere i nostri soldi su un conto deposito chiaramente questa è la strategia più sicura in assoluto perché non potete perdere il vostro capitale però chiaramente questo significa anche avere un rendimento inferiore infatti per affidare i soldi e metterli in un conto deposito dovrete aprire un conto deposito con una banca attraverso il classico conto deposito infatti ci sono al momento varie alternative che possono essere diciamo vagliate da da ciascuno di noi per quanto riguarda i conti deposito abbiamo ad esempio i limiti uidiba o santander che sono i migliori al momento conti deposito del 2021 per quanto riguarda uidiba e santander offrono un ottimo rendimento per quanto riguarda il deposito a sei mesi e a 12 mesi con un rendimento dell'uno per cento mentre i limiti addirittura offre per un deposito però di 24 mesi un rendimento fino al 2 per cento quindi ragazzi parliamo comunque di un rendimento abbastanza alto considerato che non è soggetto a perdite certo chiaramente mettere 100 euro e vi consentirà di avere un piccolissimo ritorno però meglio comunque di nulla perché se lasciate i soldi sul conto corrente verranno erosi dall'inflazione quindi ragazzi questo è il primo metodo su cui investire 100 euro secondo metodo che ho selezionato per voi investire in oro che cosa significa ragazzi loro è considerato da sempre il bene rifugio per eccellenza dato che conserva e incrementa il suo valore nel tempo proteggendo il patrimonio di un investitore sia dall'inflazione che da eventi inaspettati come ad esempio guerre o crisi economiche globali ecco perché nel proprio portafoglio di investimenti ciascuno dovrebbe avere una percentuale dedicata a loro vi ricordo che il celebre investitore reidalio forse il secondo più grande investitore al mondo al momento dopo warren buffett ha ideato il portafoglio all season affermando che chi non investe in oro non ha studiato in modo abbastanza approfondito la storia umana tuttavia ragazzi il prezzo dell'oro varia in tempo reale ogni giorno quindi nel breve periodo è anche possibile incorrere in perdite investendo in oro mentre nel lungo periodo questa tipologia di investimento non delude mai quindi io vi sconsiglio di investire in oro se avete una logica di breve termine altrimenti potete sempre comprare oro come fate per comprare oro ovviamente potete o investire materialmente quindi comprare un un oggetto d'oro o un lingotto oppure potete investire tramite le varie piattaforme online che consentono di comprare ad esempio etf sull'oro oppure derivati sull'oro ovviamente i derivati sono molto più rischiosi io vi consiglio al massimo di investire su etf che hanno diciamo come replica fisica l'oro bene ragazzi adesso che vi ho dato diciamo un riferimento per quanto riguarda l'acquisto di oro vi dico che statisticamente l'oro guadagna mediamente ma parliamo di archi temporali ultra decennali il guadagno dell'oro può essere ovviamente sia negativo che molto positivo mediamente siamo nell'ordine del 2 3 per cento annuo di guadagno quindi niente male però dobbiamo essere disposti a investire in oro con un'ottica di molto molto lungo termine bene ragazzi terzo metodo che ho selezionato per voi investire in azioni come si fa a investire 100 euro in azioni ovviamente la prima cosa da fare è porsi queste domande e darsi delle risposte queste domande infatti sono molto frequenti fra voi che guardate i video infatti mi mandate sempre tante mail in cui mi chiedete di spiegare come si fa ad investire infatti la maggior parte delle banche dei broker online non ti permette di creare un conto trading con 100 euro però esistono delle soluzioni che vi spiegherò di seguito abbiamo alcune piattaforme di investimento come ad esempio de giro o plus 500 oppure i toro che consentono di investire anche con capitali piccoli quindi 100 euro potrebbero essere un buon punto di partenza per iniziare ad investire de giro è un broker online per investire con piccole cifre perché addirittura vi permette di investire in percentuali di azioni quindi non necessariamente dovete comprare un'azione intera potete definire la percentuale di azione da comprare ovviamente ragazzi nel caso in cui andiate ad investire 100 euro in azioni la cosa da fare sarebbe quella di studiare attentamente le aziende o l'azienda che state andando ad acquistare per questo ovviamente ci vuole molta padronanza dei mercati perché non si può investire 100 euro semplicemente perché ve l'ha detto il vostro amico o perché avete visto un banner pubblicitario su internet che vi dice investi in amazon diventerai ricco assolutamente no questo è il miglior modo per perdere soldi quindi prima di selezionare un'azienda dovete studiarla attentamente capire quali sono i suoi fondamentali e poi potete investire in azioni quindi investire 100 euro in azioni è una ha un potenziale rendimento molto molto alto ma avete anche un rischio molto molto alto di perdere i vostri soldi se non avete investito in un'azienda solida bene ragazzi questo era il terzo metodo andiamo avanti quarto metodo peer to peer lending che cos'è il peer to peer lending oltre infatti agli strumenti finanziari classici è possibile investire 100 euro nei cosiddetti finanziamenti peer to peer lending cioè prestiti personali fra persone fisiche il termine peer to peer lending fa riferimento a prestiti personali tra privati in pratica tu presti dei soldi a un'altra persona e con il tempo questa persona che li ha usati per degli scopi personali ti restituirà il tuo capitale più una quota di interessi che rappresentano il tuo profitto chiaramente effettuare questo tipo di operazioni in maniera diretta è molto rischioso oltre che difficilmente fattibile perché assicurarsi la restituzione dei propri soldi è abbastanza complicato ecco perché ci sono varie piattaforme di peer to peer lending io ve ne cito tre che sono piattaforme italiane le migliori al momento secondo me sono criptalia so easy e prestiamoci che offrono dei rendimenti che variano tra il 5 e il 9 per cento i depositi minimi sono so easy circa 10 euro criptalia a 20 euro altrettanto prestiamoci quindi con 100 euro potete iniziare ad investire in queste piattaforme di peer to peer lending vi ricordo comunque che il peer to peer lending a fronte di rendimenti abbastanza alti è comunque un'attività rischiosa e quindi bisogna approcciarla con molta cautela perché potete rischiare di perdere i vostri soldi inoltre molte piattaforme offrono dei generosi bonus di benvenuto quindi prima di investire e di aprire il conto magari utilizzate qualche codice sconto o qualche codice di benvenuto che trovate online io non ve ne consiglio nessuno perché ci tengo a dire che questi video non sono sponsorizzati da nessuno quindi non vi voglio dare nessun codice amico nessun codice sconto proprio per dimostrarvi la mia totale trasparenza sul panorama internazionale invece abbiamo sicuramente bondora che con il suo piano go and grow permette di ritirare un interesse del 6,75 per cento annuo senza fare assolutamente nulla infatti la piattaforma dopo aver depositato i vostri soldi che possono essere anche 100 euro al mese vi comincerà ad accreditare il tasso di interesse del 6,75 per cento annuo quindi ragazzi questo è per quanto riguarda il peer to peer lending andiamo avanti quinto modo criptovalute ovviamente ragazzi le criptovalute sono diciamo strumenti ad alto rendimento ma ad altissimo rischio perché potete acquistare ad esempio bitcoin oppure ethereum che sono le criptovalute attualmente più gettonate però ricordatevi che questo tipo di investimenti è soggetto a fortissima volatilità quindi potreste ritrovarvi dopo qualche mese con un 50 70 anche 80 per cento di capitale in meno così come potete ritrovarvi con il raddoppio del capitale nell'arco di un anno molta molta attenzione va prestata a questo tipo di investimento che è altamente speculativo io se se diciamo volete investire in maniera abbastanza sicura i vostri 100 euro lo sconsiglio o comunque consiglio di mettere una piccolissima percentuale del proprio portafoglio in criptovalute solitamente non si investe più del 5 10 per cento al massimo del proprio portafoglio le cripto come ricordato prima sono al momento la scelta più rischiosa però anche potenzialmente più redditizia infatti attualmente un bitcoin vale più di 60 mila dollari il che è tantissimo però alcuni stimano del suo valore potrebbe addirittura superare i 100 mila dollari parliamo di grosse banche di investimento come jp morgan oppure goldman sachs ovviamente tutto questo dipende da voi dalla vostra propensione al rischio quindi prestate molta attenzione se decidete di investire 100 euro in criptovalute altro metodo ragazzi che ho selezionato per voi sono gli etf gli etf che sono l'acronimo di exchange traded fund sono praticamente degli strumenti con cui andate ad investire in un mercato in maniera diversificata ed è per questo che io consiglio se avete 100 euro al mese di investire in etf perché diversificate sia a livello geografico che a livello di settori con un unico strumento lo scenario infatti qui cambia se investite 100 euro in etf dato che con 100 euro al mese si può riuscire a far fruttare i propri risparmi alla grande in un'ottica di lungo periodo quindi parliamo di anni di investimento gli strumenti per effettuare questo tipo di investimento sono gli etf attraverso il piano di accumulo del capitale infatti gli etf come vi dicevo sono dei fondi diversificati e quotati in borsa che replicano in modo passivo l'andamento di un indice di mercato ad esempio un indice azionario o altri tipi se per esempio verificate l'etf i shares core s&p 500 questo replicherà l'indice s&p 500 che è il più grande indice della borsa statunitense ovviamente in questo caso voi saprete assolutamente con certezza in cosa sta investendo il gestore dell'etf perché il gestore è obbligato ad acquistare i titoli presenti nell'indice di riferimento vi ricordo che ad esempio l'indice standard s&p 500 negli ultimi 90 anni ha realizzato un rendimento medio annuo di circa il 10 per cento quindi parliamo di un ottimo rendimento a fronte di un investimento contenuto e di bassissimi rischi perché ragazzi per perdere il vostro capitale praticamente dovrebbe andare in bancarotta l'economia statunitense e questo è abbastanza improbabile anche se ciò dovesse succedere probabilmente l'ultimo dei problemi sarebbe recuperare i nostri 100 euro perché saremmo di fronte ad una catastrofe mondiale il modo migliore per investire in etf è ovviamente di investire tramite dei broker online come ad esempio de giro o itoro oppure trading 212 però ci sono anche altre opzioni magari leggermente più costose a livello di costi che sono i conti titoli delle banche soprattutto banche online come ad esempio webank oppure fineco oppure che banca quindi sta a voi scegliere la piattaforma con la quale vi potete vi potreste trovare meglio altro ultimo metodo anzi ragazzi è investire in te stesso che cosa significa ragazzi il miglior modo ed è quello ve lo dico perché chi è arrivato fin qui è sicuramente interessato a questa cosa il miglior modo che avete per iniziare a investire 100 euro è quello di acquistare dei libri di finanza per formarvi fate formazione perché tramite la formazione tramite i libri andate online guardate altri canali youtube non ci sono assolutamente problemi se li guardate anzi vi invito a farlo perché ci sono tantissimi miei colleghi youtuber che consigliano libri di finanza e questo è il pane per chi vuole iniziare a investire dopo che avrete studiato e letto attentamente questi libri vi assicuro che le idee vi verranno quindi il miglior modo che io è quello che io consiglio prima di tutto per investire 100 euro è quello di fare formazione personale perché con la formazione sarete in grado di gestire al meglio i vostri soldi bene ragazzi io vi ricordo comunque che non sono un consulente finanziario quindi fate sempre le vostre analisi prima di investire lasciate un commento sotto questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti lasciate un bel like al video io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti